Il prossimo 23 agosto nella Villa Comunale di Belvedere un evento spettacolo, ma non diciamo più niente, lo facciamo presentare all'organitrice, il deus ex macchina di questa manifestazione, Nancy Mastia. Con questo track event abbiamo deciso, che è un enorme palcoscenico viaggiante, di fare tappa qui a Battipaia, di regalare alla mia Battipaia, perché io sono originaria di Battipaia, questo evento spettacolo. Evento spettacolo proprio col track, questa astronave luminosa, bellissima, che si apre con un telecomando e porteremo questa festa qui all'interno della Villa Comunale di Via a Belvedere, una festa sul tema dell'amicizia. Cos'è l'amicizia? L'amicizia che ci lega anche da lontano, oltre la guerra, perché avremo anche amici che verranno purtroppo da quei paesi un po' più particolari, più provati in questo momento, è l'amicizia oltre la pandemia, oltre il sesso, oltre l'etnia religiosa, quindi parleremo un po' dell'amicizia anche con delle associazioni. Sarà un bel appuntamento. Senti, e qualche cosa più in particolare ce la puoi preannunciare? Sì, ecco, io mi manteniamo sul vago proprio per questo, sì, però posso preannunciare con piacere proprio la partecipazione di queste due associazioni che io tengo particolarmente al cuore. La prima è l'associazione Prima Fila, l'associazione che è il Track Event, questo mio palcoscenico viaggiante, lo chiamo mio perché sono il direttore artistico, ma l'ingegnere progettista è mio marito, Romeo Di Muio, quindi è bene che si venga a conoscenza anche di questo, perché anche lui è battipagliese, anche se ormai siamo in giro per l'Italia già da tanti mesi. Quindi, dicevo, c'è l'associazione Prima Fila, l'associazione di Battipaglia, associazione che noi sosteniamo e supportiamo, ed è stata una delle prime associazioni a creare un numero telefonico per gli anziani costretti in casa durante il primo lockdown. Quindi qualcosa di veramente bello e di importante. Avremo ospite anche l'associazione Emanuele dei Monti di Eboli, qui nel vicino comune di Olevano. Verranno i ragazzi dell'Emanuele, sono ragazzi con cui io ho avuto la fortuna, perché veramente a volte è una fortuna conoscere persone così speciali, con cui ho avuto già la fortuna di collaborare. Sono ragazzi che sono legati proprio dall'amicizia, da un sentimento vero di amicizia, profondo e sincero.